Ha preso il Via Performing, il progetto finanziato dal Ministero dell'Università con 3.700.000 euro di fondi del PNRR, che vede l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro capofila di un raggruppamento di altre 11 tra accademie, conservatori e università italiane. Il progetto si concluderà nel marzo 2026 e in questo periodo sono già previste due grandi iniziative a Catanzaro e un'ampia serie di attività già in calendario da realizzare in Europa, dalla Spagna alla Svezia, dall'Egitto al Kosovo. Le 12 realtà coinvolte sono già all'opera per mettere in pratica i singoli progetti che riempiono il contenitore di performing e nascerà anche uno specifico ambiente virtuale nel metaverso in cui creare e fruire delle performance artistiche. Sarà in forma significativa presente il valore dell'internazionalizzazione che finalmente consentirà a tutte le istituzioni terziarie di formazione di livello universitario finalmente di riconquistare un posizionamento nello scenario mondiale affinché le nuove generazioni possano immaginare che formarsi presso le nostre istituzioni possa avere un valore e che questo possa diventare quel contributo definitivo affinché il linguaggio dell'arte di tutto quello che appartiene dietro questo meraviglioso viaggio possa di nuovo ricollocarci per dove conviene e per dove meritiamo.